Buon inizio di settimana per la giornata di oggi lunedì 18 dicembre. Io sono Loredana qui su Notizia in un Clic per reggervi alcuni titoli di articoli che abbiamo pubblicato e che ne andremo ancora a pubblicare di nuovi nel corso della giornata. Quindi come dico sempre se vi va rimanete con noi. Melissa Crotone ha battuto l'ecomostro dell'andrangheta. I dazi sul gas svelano la falsa solidarietà europea e dal Parlamento europeo in gerenza per riconoscere genitori LGBT e utero in affitto. Questo e molto altro potete trovare nel nostro portale di informazione. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima nostra mini rassegna. Loredana Loredana